I veri ribelli oggi rispettano le regole. Non si muovono soli contro tutti, ma uniti per il bene di tutti. Cambiare il mondo per loro significa pensare al pianeta. Sono giovani di tutte le età e i pregiudizi li abbattono ancora. Come quello che dice che se non sei alla guida, allora non sei. I veri ribelli oggi non scelgono un movimento. Scelgono di muoversi in sintonia con i tempi.